Mi pare che i cittadini di Torino e probabilmente non solo di Torino abbiano voluto riaffermare che non c'è contraddizione tra la cura del territorio, l'attenzione per i dissesti idrogeologici che si sono verificati peraltro in questo momento nel nostro paese, in molti territori del nostro paese, tra la cura della città, le buche nelle strade piuttosto che marciapiedi sicuri, le metropolitane e le grandi opere infrastrutturali. Certo è una questione di risorse ma la linea ad alta velocità è una linea ormai cominciata che è in un'avanzata fase di realizzazione, che ha già visto l'investimento di 1 miliardo e 400 milioni, che è stata voluta da due governi democraticamente eletti, quello francese e quello italiano, che è finanziata probabilmente con il 50% delle risorse dall'Unione Europea. E quindi questi due paesi hanno legittimamente deciso di aumentare, di contribuire a realizzare un'opera infrastrutturale che hanno ritenuto importante. C'è una parola nelle amministrazioni che si chiama continuità amministrativa, se le opere sono cominciate le opere vanno finite. Se l'attuale governo decide invece di non privilegiare il tratto nazionale per esempio, che non ha ancora avuto nessun tipo di investimento, i lavori non sono ancora cominciati, non ci sono risorse destinate a quello scopo, il tratto nazionale. Naturalmente questo governo, legittimamente anche questo eletto dei cittadini, se vuole lo può interrompere. Ma il rapporto con la Francia, i tunnel transfrontalieri che peraltro hanno caratterizzato le comunicazioni, quando è stato possibile realizzarli a partire dal 1870, io credo che le opere cominciate debbano essere completate. Però credo che non sia stata solo una questione che ha riguardato la TAV, è stata una visione più ampia. I cittadini hanno detto che vogliono lavoro, che il lavoro è determinato dalle grandi e dalle piccole opere, che devono avere in qualche modo la stessa priorità. Nel 2016 140.000 ragazzi hanno lasciato il nostro paese e sono andati a lavorare in altri posti del mondo, molti di più di quanti non sono arrivati con i barconi. Quindi questo secondo me è stato lo spirito più importante. La politica ha partecipato, ovvero la politica poi è quella che prende le decisioni, ma sono stati cittadini a riaffermare questo principio, che lo sviluppo e il progresso, sostenibile naturalmente, perché poi si tratta di un buco nella montagna, debbono poter accompagnare l'evoluzione della società e delle nostre comunità. Grazie. 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 Grazie.